Ciao a tutti, io mi chiamo Luca Bortolussi e sono un ricercatore di informatica all'Università di Trieste, quindi in Italia. Mi occupo di diverse cose, prevalentemente bioinformatica e metodi computazionali per lo studio di sistemi biologici, la loro modellizzazione, ma anche di altre cose, per esempio linguistica computazionale e altre applicazioni dell'informatica. Io sono un ricercatore di ruolo, a differenza di molti miei coetanei, perché sono abbastanza giovane, quindi un'eccezione in Italia, visto che la maggior parte dei miei coetanei non ha questa fortuna e per come sono messe le cose oggi rischia di andare, o beh se gli va bene va all'estero, altrimenti va a fare qualcos'altro. Devo dire che però anche per chi sta dentro l'Università la situazione non è delle più rose, il clima è cupo e i fondi e le risorse per fare ricerca sono scarse. Però nonostante tutto cerchiamo di resistere, non di sperare che le cose vadano meglio. Concludo facendo gli auguri a Rita per i suoi 101 anni, evidentemente dopo 101 anni continuiamo a non lasciarla in pace, ma che dire, auguri, viva la ricerca e viva i ricercatori italiani!